Linee e guida su consenso e negoziazione nel BDSM, a cura della quarta corda. Capitolo 1. Introduzione. Queste linee guida sono il frutto di un lavoro di ricerca, riflessione e confronto su consenso e negoziazione, due aspetti che sentivi il bisogno di approfondire. Ho deciso di fissare per iscritto le mie osservazioni, innanzitutto per ricordare a me stesso alcuni concetti importanti e sui quali io per primo voglio avere un approccio migliore, sia nei miei confronti che in quelli dei miei partner. Sono io il primo a non essere perfetto e per questo motivo ho fatto un grosso lavoro su di me, ho seguito un percorso di analisi e ho iniziato a risolvere alcune situazioni più complesse per cercare di non commettere mai più, come il tatuaggio che ora ho sul braccio, errori che ho fatto in passato. Per questo motivo non voglio insegnare nulla a nessuno, tanto che ho scritto queste linee guida innanzitutto per me, anche se spero che possano essere utili a tutte le persone che le leggeranno. Siamo tutti bravi sulla carta, ma poi, quando ci sono in mezzo emozioni e desideri, non sempre ci muoviamo razionalmente. Io stesso mi rendo conto di aver fatto a volte proprio quello che qui sconsiglio di fare, magari senza accorgermene, magari in buona fede, magari spinto dalla situazione. So benissimo che nessuno negozia sempre così approfonditamente come le regole della negoziazione perfetta vorrebbero. Non solo, negoziare bene non ci mette comunque al sicuro dall'avere incidenti. Queste linee guida non sono dunque esaustive, definitive, non sono regole universalmente valide e da seguire a tutti i costi. Sono delle considerazioni che possono costituire una base da cui partire, degli spunti di riflessione, come se potessimo chiederci in anticipo che cosa farei se... La negoziazione e il consenso sono una riflessione e una pratica costante che non si esaurisce a una serie di procedure da applicare. Vorrei che alla fine di tutto questo testo passasse non solo il che cosa fare, ma anche il come farlo, ovvero come avere una buona comunicazione che tenga conto della persona che abbiamo davanti. Come ho detto, questa guida è solo una cornice in cui muoversi, non un dipinto perfettamente ultimato. E' anche questo il bello di non essere riconducibile a degli schemi, il fatto che possiamo sbagliare ma che questo serva a migliorare, che la nostra mente sia meravigliosamente complessa, che possiamo a volte desiderare una cosa ma anche il suo contrario, che vogliamo sentirci sicuri ma anche esplorare quello che ci fa paura. Quando facciamo BDSM entriamo in uno spazio fisico ed emotivo molto intimo e lo condividiamo con uno o più persone. E' dunque bene fare il possibile perché tutto questo avvenga con la soddisfazione e nel pieno consenso di tutte le persone coinvolte. La negoziazione serve a questo. Capitolo 2. Alcune definizioni. Il consenso è un accordo condiviso in cui due o più persone esprimono le proprie posizioni e rispettano quelle del o dei partner. Questo accordo può portare alla ricerca di una soluzione che concili le esigenze di tutti tramite un processo detto negoziazione. Possiamo pensare alla negoziazione come a un preservativo. Ci vuole poco a metterlo ma protegge tantissimo. Non usarlo espone a rischi. Metterlo può diventare un momento eccitante all'interno della coppia e non cambia la magia di quello che stiamo facendo. Non solo. Se si rompe possono esserci problemi gravi. Eppure molti non sanno come indossarlo e magari pensano pure di essere fighi a non usarlo. La negoziazione non è né una competizione né una serie di concessioni all'altro. Non si tratta di spuntare un prezzo più basso come quando compriamo una macchina ma di cercare di creare uno spazio condiviso in cui esplorare insieme i desideri comuni. Per questo motivo la negoziazione non si esaurisce in una serie di domande per sapere quali siano i gusti e i limiti del partner ma è in primo luogo basata sulla consapevolezza e sulla conoscenza di noi stessi. La negoziazione non è fatta di richieste ma di offerte. È un modo di esprimersi non un quiz. Quest'approccio è diverso dall'idea che alcune persone hanno riguarda la negoziazione spesso intesa come una contrattazione che il top instaura con il bottom per avere il permesso di fare determinate pratiche. In realtà la negoziazione non serve solo a evitare di fare quello che non ci piace ma anche di fare quello che desideriamo e che magari possiamo realizzare proprio grazie a una buona negoziazione. In queste linee guida ci riferiremo a un tipo di consenso che è informato e consapevole. Il consenso può essere declinato in varie forme più o meno specifiche o aperte in base alle inclinazioni personali, all'esperienza e alla fiducia nei confronti nel partner. L'importante è che venga sempre salvaguardato il rispetto e il benessere di tutte le persone coinvolte. Tutti noi negoziamo continuamente durante la nostra vita per affermare i nostri bisogni e i nostri limiti, per rispettare quelli degli altri e per trovare soluzioni tra posizioni differenti. Vediamo dunque insieme alcuni termini usati nell'ambito della negoziazione. Quando due o più persone hanno una divergenza di interessi o di bisogni, si dice che è presente un conflitto. Questa parola non ha un'accezione negativa, ma rappresenta un momento importante in cui ci definiamo e impariamo a relazionarci agli altri. Non a caso il conflitto è stato paragonato all'acqua. Troppa distrugge e travolge, poca secca e inaridisce, ma la giusta quantità aiuta a crescere. La negoziazione è poi la strategia che mettiamo in atto per risolvere il conflitto e cercare una soluzione. Esistono diversi tipi di negoziazione. Evitante, quando ci si astiene dal negoziare rimandando o evitando la discussione. Aggressiva, quando vogliamo affermare i nostri interessi a scapito di quelli del partner. Concessiva, quando sacrifichiamo i nostri interessi per soddisfare quelli del partner. Transattiva, quando optiamo per trovare una via di mezzo. E Cooperativa, quando cerchiamo una soluzione che soddisfi le esigenze di entrambi. Facciamo un esempio. Due persone vogliono un'arancia. Una strategia evitante potrebbe essere quella di pensare che, pur di non dividerla, entrambe rinunciano al frutto. Se invece le persone iniziano ad attaccarsi, minacciarsi o picchiarsi per accaparrarsi l'arancia, si avrà una negoziazione aggressiva. Se invece una delle due, pur desiderando il frutto, cederà per paura di perdere l'amicizia, allora metterà in pratica una negoziazione concessiva. Una negoziazione transattiva può essere quella di fare a metà, ma magari questo potrebbe non soddisfare nessuno dei due, che potrebbe continuare ad avere fame dopo aver mangiato la propria parte. Ma queste due persone potrebbero anche parlare e scoprire che magari una vuole una spremuta, mentre l'altra ha bisogno della buccia per fare una torta. In questo caso sarebbe possibile attuare una negoziazione cooperativa che accontenti le esigenze di tutti. Nella vita mettiamo in atto negoziazioni diverse a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. A volte siamo costretti a difendere coidenti le nostre esigenze, altre volte dobbiamo cedere, altre ancora accettare una via di mezzo, ma come abbiamo visto, la negoziazione più efficace, quando possibile, è quella che riesce a soddisfare i bisogni di tutti. L'accordo, ovvero il consenso, è il frutto della negoziazione e rappresenta la reale consapevolezza e comprensione delle necessità, degli interessi e delle posizioni proprie e altrui. Non sempre un accordo può costituire anche una soluzione. Alle volte possiamo semplicemente accordarci sul fatto che non esistano delle scelte che accontentino tutti e cercare comunque di gestire la situazione nel miglior modo possibile. Generalmente, capire di non poter trovare una soluzione soddisfacente per entrambi è meglio che accettare una soluzione insoddisfacente, in modo da non sviluppare poi risentimento e aggressività. Capitolo 4. Fiducia Nell'iniziare a parlare di consenso e negoziazione nel BDSM, la prima parola che mi viene in mente è fiducia. La fiducia è un aspetto molto importante perché nel gioco ci esponiamo al rischio di un incidente a livello fisico, emotivo o di consenso, sia come top che come bottom. Quasi tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto cose avventate con persone in cui abbiamo riposto la nostra fiducia senza stare a pensare ai rischi di quello che stavamo facendo, magari con la fortuna di non incappare in nessun problema. Mi sono allora chiesto che cosa sia la fiducia e come rispondere alla domanda come posso dire di fidarmi di una persona? La fiducia è una sensazione di sicurezza che possiamo provare nei confronti di noi stessi e dell'altro. Relativamente al BDSM, la fiducia riguarda diversi aspetti del gioco, tra cui quello tecnico, la consapevolezza della propria preparazione, la capacità di gestire eventuali criticità, l'utilizzo di strumenti sicuri, eccetera. Quello comunicativo, la capacità di esprimere e rispettare i desideri propri ad altrui, il saper dare feedback utili, eccetera. E quello emotivo relazionale, il provare una sensazione di tranquillità, il sentirsi rispettati, eccetera. La fiducia è dunque basata sia sul senso critico, sia sulle capacità intuitive, su quello che sentiamo a pelle. Per questi motivi la fiducia si sviluppa col tempo, via via che diventiamo più esperti e che conosciamo meglio il nostro partner. Inoltre, la fiducia cambia in base al rischio. Mettere una molletta da bucato su un capezzolo è diverso che trapassarlo con un'aco cannula. Farsi fotografare per un corso di ritratto è diverso dal sapere che una persona ha delle nostre foto mentre camminiamo al guinzaglio con un plug a forma di coda di maiale. Quando vogliamo giocare con qualcuno, interroghiamoci quindi con sincerità su quanto ci fidiamo di noi stessi e quanto possiamo fidarci del partner, e decidiamo come comportarci soppesando bene la nostra voglia di divertirci, l'attrazione, persino il brivido del rischio, ma cercando il più possibile di proteggerci per evitare problemi. Capitolo 5 Esperienza La seconda parola che mi viene in mente è esperienza. L'esperienza, infatti, è un aspetto molto importante della negoziazione, perché più siamo addentro a certe pratiche è meglio possiamo capire gli aspetti da chiarire, i rischi, le nostre preferenze, eventuali criticità, ecc. Chi ha esperienza, in genere, sa meglio che cosa vuole fare, come farlo, che cosa evitare e anche come esprimerlo. Alcune frasi molto generiche e indicative di scarsa esperienza sono infatti «Fai pure quello che vuoi», «Puoi toccarmi, ma nulla di sessuale», «Giochiamo insieme, ma non cose troppo impegnative», ecc. È bene dunque essere il più possibile consapevoli di quale sia la nostra esperienza e quella del partner nella negoziazione e nella pratica che andremo ad affrontare. Se, per esempio, siamo entrambi poco esperti sia nella negoziazione che nella pratica, sarà bene procedere con molta cautela, dare e chiedere feedback durante la sessione, decidere una safe word, ecc. Al contrario, a volte persone molto esperte possono ridurre la negoziazione a un ristretto numero di aspetti perché sanno come muoversi limitando comunque al minimo il rischio di incidenti. Ci sono però anche alcuni rischi che riguardano l'esperienza. L'esperienza può essere valutata male. Per alcune persone un numero limitato di sessioni può essere sufficiente per ritenersi esperti, sottovalutando il livello reale di preparazione. È un rischio tipico di chi non è più alle prime armi ma non ha ancora un bagaglio di esperienze significativo. Ci può essere poi chi è realmente esperto ma finisce con l'essere troppo sicuro di sé, rischiando di sottostimare alcuni rischi o di tralasciare una buona negoziazione. Uno dei rischi potrebbe essere quello di illudersi di poter capire da soli le esigenze del partner, confondendone in realtà con le proprie e finendo per fare cose che il partner non desidera. Infine c'è chi vanta una lunga esperienza quando in realtà pratica da tempo ma male. Ci può essere chi ha avuto incidenti ma li ha tenuti nascosti, chi pratica da anni ma sempre con lo stesso partner e non è abituato a negoziare con sconosciuti, chi è sulla scena da tempo ma pratica assai raramente, e anche chi gioca o negozia male ma non ha mai avuto problemi perché semplicemente è stato fortunato. Attenzione dunque ai falsi esperti. L'essere professionisti, conosciuti, organizzatori di eventi, community leader non garantisce una sessione sicura, piacevole e rispettosa dei limiti. Se una persona è davvero tanto esperta lo si vede anche dal fatto che è la prima a insistere su una buona negoziazione. E se c'è una grossa disparità di esperienza tra i partner? In questo caso può essere utile che il partner, realmente più esperto, agevoli quello meno esperto negli aspetti della negoziazione che potrebbe non conoscere, assicurandosi che abbia gli strumenti per poter portare a termine una sessione in modo sicuro e cercando di evitare incidenti tecnici o di consenso. Iniziamo a parlare più fattivamente di negoziazione con alcuni consigli generali su quali aspetti toccare e su come questi possano cambiare nel tempo. In linea generale, ogni sessione va negoziata volta per volta, in particolar modo con partner che conosciamo poco. Alcuni limiti che potevano andare bene in una situazione potrebbero infatti non valere per un'altra oppure potrebbero essere insorti dei cambiamenti. Ovviamente sta sia al top che al bottom informarsi se ci sono state variazioni rispetto a precedenti sessioni ma anche informare il partner se siamo consapevoli che su certi aspetti abbiamo cambiato le nostre decisioni. Ritenere che il partner avrebbe potuto capire da solo una certa cosa che invece non ha colto dovrebbe farci riflettere sul fatto che forse avremmo dovuto informarlo noi per primi. La quantità delle informazioni da negoziare cambia anche in base all'esperienza che abbiamo, a quanto conosciamo il partner e a quanto ci fidiamo. Una coppia che gioca insieme da molto tempo avrà bisogno di chiarire meno aspetti di chi si incontra per la prima volta così come due persone esperte sapranno identificare subito i punti importanti di una negoziazione relativa a quello che andranno a fare. Su internet si trovano dei questionari su cui poter indicare le preferenze riguardo a un sacco di pratiche i limiti i modi in cui si dovrà svolgere la sessione la sua durata eccetera. Sono moduli di dubbia utilità. Innanzitutto la negoziazione non si esaurisce con un test a crocette. Inoltre il problema relativo al negoziare troppi aspetti prima di una sessione è che non solo sicuramente non sono tutti fondamentali ma anche che tra la mole di informazioni ricevute poi ci potremmo dimenticare quelle realmente importanti. È infatti assai difficile che in una stessa sessione faremo così tante pratiche da dover negoziare un numero enorme di aspetti specialmente con un nuovo partner è meglio limitare le prime sessioni a poche pratiche e maturare la conoscenza e la fiducia reciproca nel tempo in modo da sentirci più sicuri successivamente in sessioni più articolate e impegnative. Capitolo 7 Esporre le nostre motivazioni e le nostre aspettative Una buona negoziazione comincia da noi dal capire e dall'esprimere che cosa desideriamo e che cose ci aspettiamo da quello che andremo a fare. La negoziazione infatti non consiste solo nel dire che cosa vogliamo o non vogliamo fare ma anche nel chiarire quale sia il mood che ricerchiamo. Una sculacciata con entrambi i partner che giocano scherzando tra di loro è diversa da una punizione in stile vittoriano. Un walks play fatto tra due persone alla pari è diverso da quando uno dei partner è un sottomesso che sta giocando in ginocchio adorando i piedi dell'altro. Le motivazioni possono essere molteplici e cambiare da una sessione all'altra. È dunque a mio avviso utile farsi alcune domande per avere chiare quali siano le emozioni che vogliamo provare nel gioco. Possiamo chiederci come voglio sentirmi e il modo in cui voglio percepire me stesso durante la sessione vulnerabile bello desiderabile potente apprezzato libero sottomesso eccetera. Che cosa cerco? Questo è il mood della sessione il come viene realizzata una pratica. Posso cercare divertimento sesso sofferenza scambio di potere rilassamento senso di purificazione esibizionismo umiliazione eccetera. Anche se una pratica ci piace non è detto che ci piaccia a prescindere da come venga realizzata. Due persone possono anche desiderare di fare la stessa cosa ma con finalità diverse che se non esplicitate potrebbero rendere l'esperienza poco appagante per entrambi. E come posso sentirmi in questo modo? Se abbiamo un po' di esperienza possiamo sapere quali siano le pratiche e i trigger che ci mettono nello stato d'animo che ricerchiamo quali siano le parti più sensibili del nostro corpo gli atteggiamenti che vorremmo mettere in pratica o che ci piacerebbe vedere nel partner eccetera. Queste domande come voglio sentirmi che cosa cerco e come posso sentirmi in questo modo sono utili sia se le facciamo a noi stessi sia se le poniamo al nostro partner e contribuiscono a conoscersi meglio e a una sessione probabilmente più piacevole. La negoziazione infatti non serve solo a uscire da una sessione indenni ma anche soddisfatti. Capitolo 8 Esporre i nostri desideri Abbiamo già chiarito che la negoziazione non è unidirezionale ma è un equilibrio tra i bisogni di entrambi. Il top non è un equilibrista che cerca di non cadere dal filo del consenso e il bottom non è un soprammobile che necessita di qualcuno che lo custodisca. Dopo aver esposto le nostre motivazioni e le nostre aspettative potremmo dunque dire che cosa ci piace e come ci piace farlo. Anche in questo ambito le nostre preferenze cambieranno a seconda dello stato d'animo delle condizioni fisiche del partner con cui giochiamo e della situazione. Nel dire quello a cui siamo interessati a volte la timidezza la discrezione e la paura di un rifiuto o di una reazione negativa ci fanno parlare attraverso delle perifrasi. Cerchiamo invece di esprimere i nostri desideri con una comunicazione diretta e non interrogativa. Vorrei essere frustato da te è più diretto di vuoi frustarmi? Vorrei legarti è più chiaro di ti va di essere legato da me? Domandare al posto di affermare un nostro desiderio potrebbe anche essere un modo inconscio di attribuire all'altro un desiderio che invece è nostro. Ti andrebbe di fare sesso con me significa in realtà vorrei fare sesso con te. Perché allora non essere più espliciti? Se vogliamo che l'altro sia chiaro con noi dobbiamo essere noi i primi a dire chiaramente quello che vogliamo. In questo modo inoltre possiamo contribuire a non mettere l'altro sotto la pressione di una richiesta e magari nell'imbarazzo di non voler dire di no o di doversi in qualche modo scusare per un rifiuto. Essere sinceri è infatti una scelta etica che non riguarda solo noi ma che coinvolge anche gli altri. Quando non siamo onesti mettiamo il partner nella condizione di non poter esprimere il suo consenso e di non operare una scelta informata. Capisco però bene che non sia sempre semplice essere così sinceri. Purtroppo però neanche essere diretti può togliere il partner da una situazione di imbarazzo. Un po' di intuito ci può aiutare a esprimere i nostri desideri in base anche al livello di conoscenza e di intimità che abbiamo con l'altro. Può essere dunque utile riflettere in anticipo sulle nostre posizioni per essere pronti a esporle con tranquillità e a rispondere a eventuali domande o richieste di chiarimenti. Possiamo infatti auspicare di ricevere quello che vogliamo solo se abbiamo il coraggio di esprimerlo. Capitolo 9 Esporre i nostri limiti A questo punto della negoziazione abbiamo già espresso i nostri desideri e è giunto il momento di chiarire anche quello che non vogliamo fare anche perché questi due aspetti sono in relazione tra di loro. I nostri limiti sono i confini oltre i quali mettiamo quello che non ci piace che non siamo disposti a fare o che non vogliamo fare in un certo modo. I limiti non riguardano dunque solo il che cosa ma anche il come. Per esempio possiamo chiarire di non voler fare una certa pratica a me il whipping non piace oppure di non farla ad una certa intensità va bene usare un vlogger ma non amo il gatto a nove code o ancora in un certo modo il trampling mi piace ma senza nessun rapporto di dominazione e sottomissione oppure inizio a frustarmi solo quando avrò raggiunto una certa eccitazione. Avere dei limiti non indica una mancanza o una incapacità ma una scelta che noi e il nostro partner dobbiamo rispettare. I limiti riguardano sia top che bottom e possono cambiare in base a vari fattori per esempio a seconda della persona con cui si gioca delle circostanze o della disposizione di animo. Col tempo i limiti possono anche spostarsi in avanti o indietro possiamo cioè scoprire che una pratica che non ci piaceva ora ci interessa oppure che qualcosa che amavamo adesso ci dà fastidio. Il problema non è superare a tutti i costi un limite ma farlo con piacere. Anche l'andamento di una sessione o persino di una relazione determina la possibilità di modificare certi limiti. Se si crea il giusto feeling e se ci fidiamo del partner saremo più disposti a spostare in avanti alcuni aspetti del gioco rispetto a una situazione in cui non ci sentiamo molto coinvolti. Vediamo adesso alcuni aspetti per i quali è utile chiarire i limiti prima di una sessione. Sesso Iniziamo con l'aspetto forse più soggettivo è facilmente fraintendibile di una negoziazione. Io stesso mi sono sentito dire possiamo fare tutto ma nulla di sessuale. Che cosa significa? Fare una mutandina di corda? Strizzare un capezzolo? Baciare una parte del corpo? Frustare i genitali? È qualcosa di sessuale? A volte non riusciamo o non vogliamo essere specifici riguardo a certi aspetti relativi alla sessualità. Un concetto tanto vasto da poter però dare adito a cattive interpretazioni. In generale è dunque meglio chiedere che cosa si intenda per sesso e chiarirsi bene su questo punto. Per alcune persone infatti il sesso è tutto ciò che implica un contatto con i genitali. Per altre un contatto ma solo se volto a eccitare. Per altre dipende dalle intenzioni con cui si gioca e altre ancora intendono con sesso solo il rapporto sessuale. Per questi motivi è meglio specificare quali parti del corpo non vogliamo che siano toccate e quali tipi di contatto ammettiamo per esempio toccare accarezzare stringere eccetera specialmente riguardo a quelli più intimi come baci morsi contatti con la bocca i genitali o altre zone erogene eccetera. Nel caso poi durante la sessione volessimo fare qualcosa di cui non abbiamo discusso col partner nella negoziazione in generale è meglio rimandare e chiarirsi successivamente piuttosto che fare qualcosa che il partner potrebbe non volere. Inoltre soprattutto quando non ci si conosce bene è utile utilizzare una safe word in modo da interrompere subito il gioco se qualcosa va storto sotto questo punto di vista. A volte è difficile fare le scelte migliori quando siamo eccitati e coinvolti emotivamente ma è pur vero che in certe occasioni si crea una chimica tale per cui la sessione si svolge nel migliore dei modi senza bisogno di doverne definire ogni aspetto. Ogni esperienza e relazione è unica e quindi l'intuito la comunicazione e il buonsenso ci potranno sempre essere di grande aiuto. Contatto Vogliamo essere toccati oppure no? E se sì in che modo? Ci sono parti del corpo che non vogliamo che siano toccate? Permettiamo l'uso di sextoy? È probabile ma non implicito che una sessione di BDSM richieda una certa vicinanza col partner ma non è detto che dobbiamo essere comunque disponibili a qualsiasi forma di contatto. Potremmo non voler essere toccati in modo rude o intenso oppure potremmo non gradire un contatto troppo intimo o ancora potremmo avere delle preferenze a seconda della parte del corpo. Come detto riguarda il sesso è meglio chiarire prima della sessione se ci sono parti del corpo che non vogliamo che siano toccate o che non lo siano in un certo modo specialmente riguardo a contatti più intimi come ad esempio baci carezze eccetera. Dolore Come ci sentiamo riguardo al provare o al far provare dolore? Il BDSM non implica necessariamente il giocare col dolore ma in molte pratiche il dolore è una componente significativa. È bene quindi chiarire non solo come dovrà svolgersi la sessione a questo riguardo per esempio non voglio provare dolore oppure voglio un dolore sopportabile o voglio essere portato al mio limite ma anche definire delle safe word oppure comunicare direttamente per sapere quando va tutto bene quando rallentare e quando fermarci soprattutto con partner che non conosciamo o in pratiche particolarmente intense. Dominazione e sottomissione Vogliamo che nel gioco sia presente una dinamica di dominazione e sottomissione? Molte pratiche BDSM prevedono uno scambio di potere ma non necessariamente una vera e propria relazione di dominazione e sottomissione. Addirittura può succedere che un bottom possa chiedere a un top di fargli qualcosa o che un dominante chieda al suo sottomesso di fargli da top. Non sempre quindi il dominante è chi fa una certa pratica e non sempre il bottom è la persona che cede parte della sua libertà. Come abbiamo già detto non si tratta solo dunque di decidere che cosa fare ma anche come farlo. Una certa pratica può essere infatti realizzata in un'ottica di gioco alla pari con uno scambio di potere o all'interno di un rapporto di dominazione e sottomissione. Pratiche Quali pratiche vogliamo fare durante la sessione? Ci interessano pratiche specifiche o siamo aperti a diversi tipi di esperienza? Soprattutto quando si gioca con un partner che non conosciamo bene è meglio chiarire se la sessione riguarda una sola pratica o se siamo disponibili a integrare un certo gioco con altri. Più alto è il numero delle cose che vogliamo fare più la negoziazione diventerà articolata. Ovviamente anche in questo ambito possiamo decidere di non voler stabilire tutto quello che succederà per file per segno ma lasciare un margine di discrezionalità al partner se ci fidiamo che entrambi sapremo gestire eventuali situazioni non perfettamente definite durante la negoziazione. Tempo In alcuni casi e per certe pratiche può essere utile anche fare presente al partner eventuali limiti di tempo dovuti ai nostri gusti o alle nostre esigenze. Per esempio possiamo informare che preferiamo una sessione veloce e leggera oppure molto intensa ma non lunga o che abbiamo bisogno di tempo per entrare nel mood giusto o ancora che una certa pratica ci piace ma se protratta troppo a lungo ci viene annoia. Non si tratta solo di evitare problemi ma anche di goderci la sessione al meglio. Foto e video Si possono fare foto o video? Verranno pubblicati o diffusi in qualche modo? Se vogliamo pubblicare o diffondere delle immagini che ritraggono altre persone chiariamoci bene su questo punto con i soggetti ritratti e possibilmente facciamo firmare una liberatoria. Segni Ci sono dei problemi se rimangono dei segni sul corpo dopo la sessione? Per quanto tempo rimarranno? Alcune persone possono fare dei lavori o avere situazioni personali tali da rendere difficilmente giustificabili o non consentiti i segni che un certo gioco può lasciare. È dunque bene fare presenti le proprie necessità informare e informarsi riguardo alla possibilità che una certa pratica possa lasciare dei segni soprattutto nel caso di un top esperto che giochi con un bottom che lo è meno in modo da non avere brutte sorprese alla fine della sessione riguardo a un aspetto che per uno dei partner era scontato ma che l'altro non conosceva. Trigger Un trigger è un detonatore emotivo ovvero una parola o un'azione che può scatenare una reazione significativa e spesso incontrollabile sia essa piacevole o spiacevole. Toccare una parte del corpo dire una certa parola fare un certo gesto possono essere qualcosa di estremamente piacevole e eccitante oppure determinare una risposta negativa che ad esempio può riportare alla mente una brutta esperienza passata fare stare male dare fastidio e compromettere tutta la sessione. Se li conosciamo facciamo dunque presenti i nostri trigger negativi ma anche quelli positivi. Il fatto di lasciare all'altro il compito di scoprire quali siano i nostri punti deboli o il non volerli conoscere per il piacere della scoperta deve essere una scelta personale e non qualcosa di dovuto per il nostro ruolo. Come possiamo vedere ci sono molti aspetti che possono essere negoziati prima di giocare. Alcuni di essi si escludono a vicenda. se voglio fare rope bondage non dovrò specificare che ci potrà essere un contatto fisico oppure possono non interessarci se non ho intenzione di fare foto non dovrò sincerarmi che al partner dia fastidio il fatto di essere fotografato o ancora non riguardare una certa pratica. Non è dunque necessario negoziare sempre ogni aspetto. Questi sono solo alcuni degli ambiti più significativi che possono essere toccati in una negoziazione. Sta poi a noi capire con un po' di intuito e di buon senso quali affrontare e quali no. Una possibilità per evitare di dover fare una negoziazione troppo lunga è quella di limitare le pratiche che realizzeremo specialmente nelle prime esperienze con un nuovo partner. Un altro suggerimento è quello di confrontarci con determinati limiti un po' alla volta. In una prima sessione potremmo giocare più alla pari e sperimentare delle dinamiche di scambio di potere successivamente oppure potremmo decidere di inserire un coinvolgimento più sessuale durante una sessione solo dopo che abbiamo raggiunto un'intimità sufficiente col partner. È bene informare la persona con cui giochiamo riguarda i nostri limiti ma è altrettanto utile fare domande se non c'è chiaro qualcosa. Se per esempio il partner si è dimenticato di specificare come si sente riguardo al fare sesso in sessione e noi siamo interessati a farlo è meglio chiedere piuttosto che basarci su un consenso solo ipotizzato. Cerchiamo dunque di esplorare le possibilità di gioco un po' alla volta di familiarizzare con i limiti del partner e di giocare con tranquillità e senza ansie. La safe word è una parola o un gesto in questo caso detto safe signal che può essere utilizzato durante il gioco per interromperlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La safe word può essere detta per un problema dovuto al gioco ma anche per un imprevisto indipendente dalla sessione. Può accadere per esempio che quello che stiamo facendo sia troppo intenso ma anche che ci è semplicemente venuto un crampo che è stato superato un limite oppure che abbiamo un improvviso calo di pressione. Quando la safe word viene detta dobbiamo interrompere il gioco il prima possibile mantenendo comunque le condizioni di sicurezza. Ad esempio se si sta facendo una sospensione tagliare immediatamente tutte le corde e fare cadere a terra la persona legata potrebbe non essere la scelta migliore. Una volta interrotto il gioco e messa in sicurezza la scena la prima cosa da fare è sincerarci se la persona che ha pronunciato la safe word stia bene e se abbia bisogno di conforto. In seguito potremo poi parlare per capire quale sia stato il problema che cosa non abbia funzionato e come eventualmente migliorare in futuro. La safe word deve essere semplice inequivocabile ad esempio supplicare e dire basta potrebbe far parte anche del gioco e non ci deve essere il rischio di dimenticarla neanche se citati e nel mezzo della sessione. Secondo una ricerca la parola più usata è banana. Un altro codice diffuso è quello del semaforo verde vuol dire che va tutto bene giallo che c'è bisogno di rallentare un po' il ritmo e rosso che indica di smettere immediatamente. La scelta di una parola specifica non è obbligatoria alcune persone preferiscono mantenere una comunicazione diretta durante la sessione e in questo caso basta vorrà proprio dire che si vuole smettere. Se prevediamo di essere impossibilitati a parlare possiamo adottare un safe signal ovvero un gesto che ha la stessa funzione della safe word può essere un movimento fatto con le mani il fare cadere un oggetto tenuto in pugno oppure altri gesti come battere i piedi. La safe word è utile perché ci consente di continuare a giocare anche quando abbiamo una reazione estrema come pianto urla chiedere pietà che però non indica effettivamente la volontà di interrompere il gioco. In questo caso possiamo sentirci più liberi di dare sfogo alle nostre emozioni perché abbiamo la sicurezza che esiste un codice inequivocabile se vogliamo interrompere davvero la sessione. È generalmente una buona scelta quella di concordare un modo per interrompere il gioco in caso di problemi soprattutto quando non conosciamo bene il partner o se facciamo pratiche particolarmente intense. È un'ottima assicurazione contro il superamento dei limiti del consenso o anche solo di situazioni spiacevoli. Stabilire una safe word non si esaurisce però nello scegliere la parola da usare ma è una parte specifica della negoziazione in cui chiarire ed essere consapevoli che sia noi che il nostro partner siamo in grado di usarla e che non ci periteremo a dirla. Ci può essere infatti ad esempio chi durante il gioco va in subspace perde il contatto con la realtà e non è più in grado di dare feedback. In questo caso il top deve essere molto esperto e cauto soprattutto se non conosce il partner. Il rischio è di fare cose che vadano oltre i limiti stabiliti proprio perché il bottom non può né rendersi conto né avvertire che tali limiti sono stati superati. C'è chi poi nonostante sia stata deciso una safe word quando arriva il momento opportuno non riesce o non vuole usarla per esempio per paura di fare brutta figura o di scontentare il partner. Pronunciare la safe word non è una dimostrazione di debolezza non è indice di scarsa resistenza per il bottom o di incapacità da parte del top significa semplicemente che vogliamo terminare il gioco per non trasformarlo in un'esperienza negativa. È dunque una dimostrazione di capacità di preparazione e di rispetto per sé e per il partner. Tra l'altro nulla vieta che si possa riprendere il gioco in seguito. Capitolo 11 Informare su eventuali problemi fisici Una parte fondamentale della negoziazione è quella di informare e di informarci su eventuali problemi fisici e psicologici. Se siamo a conoscenza di condizioni fisiche che potrebbero essere rilevanti per il gioco dobbiamo noi per primi farle presenti. Qualora invece il partner non ci dica nulla al riguardo è comunque sempre bene sincerarci dello stato di salute dell'altra persona. A volte le implicazioni di alcune patologie sul gioco sono abbastanza evidenti. Ad esempio se ho un hernia al disco avrò problemi a piegare la schiena in alcune posizioni per esempio facendo bondage. Ma ci possono essere problemi ai quali non pensiamo perché non li riteniamo rilevanti per quello che andremo a fare quando invece potrebbero avere implicazioni significative. Ad esempio chi ha la cataratta potrebbe non pensare al rischio di un aumento della pressione oculare in una sospensione a testa in giù. Durante la negoziazione informiamo dunque sempre il partner se abbiamo qualche patologia temporanea ad esempio un'influenza o cronica ad esempio l'asma e se stiamo prendendo delle medicine che potrebbero avere delle implicazioni nel gioco. Per esempio chi prende anticoagulanti potrebbe essere particolarmente soggetto a emorragie o ecchimosi. Facciamo anche presente se potremmo aver bisogno di qualche medicina durante la sessione ad esempio un inalatore per un asmatico e spieghiamo al partner dove trovarla. Tra le malattie o le condizioni fisiche che potrebbero essere significative per alcune pratiche BDSM possiamo trovare le seguenti patologie respiratorie ad esempio asma pressione sanguigna bassa o alta patologie articolari per esempio problemi alla schiena operazioni chirurgiche eccetera patologie alle ossa come osteoporosi fratture eccetera patologie cardiache o circolatorie ad esempio trombosi vene varicose eccetera patologie agli occhi ad esempio glaucoma gravidanza diabete presenza di protesi al seno o in altre parti del corpo operazioni di chirurgia bariatrica epilessia neuropatie e parestesie paralisi forte sottopeso o sovrappeso attenzione che vista la varietà delle pratiche e delle patologie se abbiamo qualche condizione fisica specifica è utile consultare un medico prima di intraprendere determinate attività una volta discusso di eventuali problemi fisici prima di iniziare a giocare prendiamoci anche del tempo per riflettere su come organizzare e adattare la sessione in base alle necessità del partner perché poi durante il gioco potremmo accorgerci di non essere in grado di mettere in atto gli accorgimenti opportuni ovviamente omettere di informare il partner riguardo una nostra patologia pur di realizzare una certa esperienza o una sessione è un comportamento irresponsabile concludiamo questa parte parlando anche di piercing e di vestiti che potrebbero influire sul gioco informiamo il partner di tutti i piercing che abbiamo soprattutto di quelli che non si vedono a prima vista in modo da poter prendere le opportune attenzioni per esempio un piercing all'ombelico potrebbe rimanere incastrato quando si gioca con la frusta oppure uno sugli organi genitali potrebbe essere fastidioso se facciamo una mutandina di corde teniamo infine presente che anche i vestiti possono influire sul gioco ad esempio un corsetto può essere fastidioso in certe posizioni e i tacchi alti possono compromettere l'equilibrio cerchiamo dunque al proposito di essere il più proattivi possibile capitolo 12 informare su eventuali problemi psicofisici emotivi e psicologici è bene non intraprendere attività che necessitino della piena consapevolezza in chi le pratica sia come top che come bottom nel caso non si sia in grado di valutare consapevolmente i rischi di esprimere o di rispettare il consenso e di essere consci di quello che si sta facendo perché sotto l'influsso di moti d'animo di sostanze droghe medicine alcol eccetera o altro questo vale anche quando vorremmo giocare o ci viene chiesto di giocare con qualcuno che capiamo non essere nel pieno delle sue condizioni psicofisiche o comunque non in grado di esprimere il proprio consenso approfittare di una persona che non ci dice no perché ad esempio è ubriaca fa comunque di noi un abusatore chiarita questa premessa può anche succedere che pur nel pieno delle nostre capacità possiamo comunque avere stati d'animo paure traumi che possono influenzare negativamente la nostra esperienza di gioco nella negoziazione a volte ci si concentra infatti solo sulle problematiche fisiche senza tener conto di quelle psicologiche che invece sono altrettanto importanti in primo luogo possiamo dunque informare il partner del nostro stato mentale in generale parlando di come ci sentiamo all'idea di giocare insieme soprattutto se la nostra disposizione d'animo potrebbe influire sull'esperienza che ci apprestiamo ad avere per esempio se siamo particolarmente tesi potremmo non riuscire a goderci la sessione al meglio in questo caso è sicuramente più utile parlarne piuttosto che mascherare i nostri sentimenti per paura di fare una brutta figura questo permetterà a noi di rilassarci e di sentirci più a nostro agio e al partner di calibrare meglio il suo modo di interagire con noi se siamo poi a conoscenza di criticità a livello psicologico che potrebbero influire sul gioco è bene farle presenti alcuni gesti infatti potrebbero riportarci alla mente dei traumi che potremmo voler evitare ad esempio una persona può chiedere che non le vengano tirati i capelli o di non essere colpita con una cinghia perché questo le ricorda quando veniva punita da piccola oppure ci possono essere zone del corpo che non vogliamo che vengano toccate perché non ci sentiamo a nostro agio con esse eccetera alcune persone inoltre possono avere fobie specifiche per esempio nei confronti degli aghi o delle altezze o sviluppare reazioni negative in seguito a particolari stimoli come rumori molto forti o urla infine chi gioca può soffrire di disturbi psicologici diagnosticati è molto difficile dare consigli al proposito vista la specificità e la varietà dei disturbi quindi se soffriamo di una certa patologia è preferibile parlare con uno specialista prima di intraprendere pratiche che potrebbero avere effetti negativi a livello psicologico in generale è meglio avvicinarci a pratiche kinky in uno stato avanzato della terapia tale da conoscere e saper gestire il proprio disturbo in questo caso sarà possibile negoziare più efficacemente lontano dalle manifestazioni del disturbo stesso e informare il partner di eventuali reazioni e di trigger che possono scatenarle non è ovviamente necessario spiegare il motivo di eventuali nostre criticità per mantenere la nostra riservatezza capitolo 13 aftercare con aftercare si indicano le attenzioni che si devono avere alla fine della sessione un momento che top e bottom si prendono per tornare alla realtà dopo aver giocato una sorta di congedo durante il quale ricondurre quello che si è provato durante la sessione a un'esperienza positiva ognuno può avere bisogno di un aftercare diverso a seconda delle preferenze personali di quello che si è fatto nella sessione della situazione eccetera non esistono aftercare migliori di altri c'è chi preferisce restare da solo e chi invece vuole rimanere vicino al partner c'è chi vuole sentirsi protetto e confortato chi necessita di scaricare l'euforia o l'eccitazione chi ha bisogno di un abbraccio chi di rimanere immobile chi di fare sesso chi di ripensare a quello che è successo e chi di staccare dalla sessione e fare il vuoto nella propria mente c'è chi ha bisogno di un aftercare molto lungo e chi di pochi minuti c'è anche chi non vuole nessun tipo di aftercare l'importante è che ognuno possa viversi il suo momento conclusivo come meglio ha bisogno altrimenti potrebbe sentirsi spaesato o sperimentare emozioni spiacevoli l'aftercare non è prerogativa dei bottom ma anche dei top molti pensano che debba essere il top a occuparsi dell'aftercare del bottom in realtà come abbiamo giocato insieme durante la sessione così dopo entrambi avremo bisogno di un momento conclusivo ma perché anche l'aftercare rientra nella negoziazione come abbiamo visto ognuno ha bisogno di modi e tempi diversi per il proprio aftercare è quindi necessario imparare a conoscere noi stessi e a capire di quale aftercare abbiamo in genere bisogno in modo da saperlo comunicare e contemporaneamente saper rispettare il tipo di aftercare richiesto dal partner a volte può accadere infatti che top e bottom cerchino aftercare diversi pensate a un bottom che dopo una sessione va a fumarsi una sigaretta lasciando da solo il top perché quello è l'aftercare di cui ha bisogno il top però potrebbe sentirsi spaesato o pensare che il bottom non vedeva l'ora di andarsene quando invece semplicemente non era stato informato sul tipo di aftercare che il bottom era abituato ad avere dedichiamo quindi del tempo durante la negoziazione per parlare anche della conclusione della sessione in modo da non avere magari una sessione grandiosa ma con un finale che ci lascia poi inappagati o delusi capitolo 14 negoziazione prima del gioco una buona negoziazione segue in genere questo schema informare informarsi restituire quello che ci è stato detto confrontarsi e decidere questo modo di affrontare una negoziazione contribuisce a far sì che entrambi i partner siano informati e responsabili delle proprie scelte se siamo nella situazione in cui uno dei partner è alle prime armi quello più esperto può inizialmente aiutare senza ovviamente approfittarsene a gestire la negoziazione allo stesso tempo è importante che chi si avvicina a certe pratiche o a determinati tipi di relazione si impegni a curare la propria preparazione ormai ci sono incontri dal vivo e numerose risorse online e quindi possiamo facilmente trovare materiale attraverso il quale avere quantomeno un'idea generale su come approcciarci a una certa pratica e su argomenti quali la negoziazione il consenso e la sicurezza una volta discusso sui vari aspetti della negoziazione può anche accadere che ci si renda conto che le esigenze e i desideri non sono conciliabili non c'è niente di male in questo nessuno ci obbliga a giocare se non ci va non c'è bisogno di sentirci in colpa o costretti a dover giustificare la nostra scelta non è necessario inventare scuse o lasciare false aspettative possiamo al contrario ringraziare il partner per aver espresso chiaramente i propri desideri e limiti ma che questi non sono in linea con quello che desideriamo se vogliamo possiamo comunque mostrarci disponibili a trovare una soluzione diversa possiamo proporre un'attività differente oppure possiamo vedere se è possibile realizzare diversamente quello di cui si era parlato non solo un sì o un no possono non essere scelte immutabili ad esempio una certa persona potrebbe sentirsi a proprio agio in un determinato contesto ma non in un altro potrebbe avere un problema di salute momentaneo o non avere voglia in quel momento per varie ragioni può accadere infine che la negoziazione sia andata benissimo e che i desideri collimino ma che per un qualche motivo ad esempio il bisogno di una conoscenza più approfondita la situazione che non ci piace eccetera non ci sentiamo comunque di giocare possiamo sempre decidere di non farlo la negoziazione non ha un punto di non ritorno capitolo 15 negoziazione durante il gioco durante una sessione la comunicazione verbale e non e la capacità di dare e capire i feedback rivestono un ruolo cruciale e costituiscono una sorta di segnaletica che ci permette di calibrare con attenzione il gioco se infatti è importante essere chiari e specifici nelle nostre richieste e nel saper affermare i nostri limiti allo stesso tempo non possiamo fare a meno di una sorta di intuito che ci permetta di non essere rigidi e di seguire al meglio l'andamento della sessione la conoscenza reciproca è ovviamente di aiuto nel sapere quali limiti non precedentemente stabiliti o non ben chiariti potrebbero essere superati in corso d'opera una coppia ben affiatata avrà sicuramente bisogno di negoziare meno avrà una maggiore fiducia reciproca e sarà più consapevole delle relazioni del partner rispetto a due persone che si incontrano per la prima volta durante il gioco è sempre possibile rinegoziare in senso restrittivo alcuni limiti decisi precedentemente se per esempio sentiamo che non vogliamo più fare qualcosa alla quale avevamo inizialmente consentito possiamo sempre farlo basta dire la safe word oppure comunicarlo direttamente diverso è il caso in cui durante il gioco decidiamo di fare qualcosa di non precedentemente discusso o di superare alcuni limiti magari spinti dalle sensazioni della sessione e dall'intesa che si è creata col partner potremmo per esempio voler fare una certa pratica della quale non avevamo parlato nella negoziazione prima di iniziare a giocare oppure decidere di voler fare sesso mentre inizialmente avevamo detto di no rinegoziare in questo senso durante la sessione è da molti ritenuto scivoloso perché il rischio è che presi dall'eccitazione o dall'euforia potremmo consentire o decidere di fare qualcosa e poi pentircene dei piccoli assestamenti dei chiarimenti e delle proposte in corso d'opera sono sempre possibili ma se ci troviamo a voler rinegoziare pesantemente una sessione durante il gioco probabilmente significa che non siamo stati chiari prima di iniziare o che abbiamo accettato delle condizioni che ci stavano strette ha poco senso proporre di fare una sospensione e di fronte ad un rifiuto a consentire a giocare con le corde a terra per poi tirare fuori nuovamente il nostro desiderio iniziale confidando in un cambiamento di idea del partner una volta che magari si sarà eccitato questa è in sostanza una manipolazione in linea generale è meglio non fare nulla di cui non abbiamo avuto un chiaro consenso e non rinegoziare il superamento di limiti precedentemente stabiliti o farlo in misura estremamente limitata in fondo è sicuramente più sicuro rinunciare a qualcosa e magari rimandarlo a una futura sessione piuttosto che non avere più la possibilità di farlo perché la fiducia è venuta meno tuttavia la negoziazione non è un contratto depositato in tribunale e a volte è proprio quando ci sentiamo a nostro agio con una persona e riusciamo a intuire come far evolvere la sessione nel migliore dei modi che abbiamo delle esperienze inaspettate ma piacevoli se vogliamo esplorare un ambito nuovo o non chiaramente negoziato in generale andare per gradi è un buon criterio da seguire se ci siamo accordati per fare una sessione di spanking leggero chiedere di continuare con un paddle borchiato potrebbe essere forse un passo più lungo della gamba nel caso in cui volessimo proporre qualcosa di non negoziato in precedenza e che non siamo certi che possa essere accettato è meglio chiedere in modo chiaro e diretto in un momento in cui siamo sicuri che il nostro partner sia in grado di rispondere con cognizione di causa e non mentre è eccitato o con la mente che viaggia rapita dalle sensazioni del gioco se invece ci troviamo a dover rispondere a una proposta di rinegoziazione durante il gioco dovremmo se possibile riuscire a prenderci un momento di concentrazione per poter rispondere consapevolmente capita però che nello slancio della sessione potremmo non essere così lucidi per questo motivo è importante negoziare bene e giocare con persone delle quali siamo sufficientemente sicuri che non si approfitteranno della situazione per fare qualcosa che non vogliamo come abbiamo già detto non dobbiamo avere paura di dire di no per timore di far rimanere male il partner il nostro benessere viene prima di tutto eventualmente possiamo chiarire che vogliamo interrompere o modificare il gioco per una nostra esigenza e non per responsabilità dell'altra persona allo stesso tempo è altrettanto importante essere preparati a un eventuale stop capire che non dipende necessariamente da noi rispettare la scelta del partner e sapere che questo non impedisce che non si possa giocare nuovamente insieme in futuro una corretta informazione su negoziazione e consenso è infatti utile anche per imparare a saper dire di no e parallelamente per accettare i no che riceveremo dagli altri abbiamo il diritto di esprimere i nostri desideri ma non abbiamo quello di vederli avverati vorrei infine tornare sulla possibilità di avere un rapporto sessuale di qualsiasi tipo al quale non era stato dato il consenso precedentemente ma che viene rinegoziato durante la sessione magari perché spinti dalla passione del momento i rischi dietro l'angolo sono molteplici trasferire i nostri desideri sull'altro accettare anche se non si vuole perché si è eccitati pensare che visto che le cose stanno andando bene allora certi limiti possono essere superati pentirci successivamente dalla nostra scelta eccetera ogni situazione è un caso a sé ma soprattutto se non conosciamo bene la persona con la quale stiamo giocando un buon criterio generale può essere a mio avviso quello di non rinegoziare in questo ambito e di sperimentare per la prima volta un'intimità sessuale durante una sessione con un partner con cui abbiamo già un'intimità sessuale pregressa capitolo 16 feedback abbiamo parlato a lungo dell'importanza della comunicazione in una sessione ma siamo veramente sicuri di saper comunicare in modo efficace facciamo un esempio una coppia sta giocando con la frusta e ad un certo punto il bottom dice mi stai facendo molto male questa è sicuramente una comunicazione ma non è detto che sia utile al top questi infatti può non riuscire a capire se il suo partner stia trovando questo molto male piacevole oppure no se è un male insufficiente giusto o eccessivo se vuole smettere rallentare un po' oppure continuare così ovviamente il top potrebbe chiedere ulteriori informazioni ma potrebbe anche pensare di aver capito col rischio che insorgano dei malintesi a differenza di un'informazione un feedback riesce anche a determinare un efficace cambiamento nel gioco stesso riducendo al minimo i fraintendimenti tecnicamente un feedback è infatti la risposta di una persona a uno stimolo risposta che determina un adattamento un cambiamento o un rinforzo del comportamento nella persona a cui è diretto o che lo ha richiesto in questo senso i feedback sono un modo che entrambi i partner hanno per avere un controllo sul gioco riuscendo ad adattarlo in base alle risposte ottenute soprattutto quando queste sono diverse da quelle attese riflettere sulla differenza tra una semplice informazione e un utile feedback può aiutare ad abituarci ad avere un atteggiamento di aiuto e di supporto al partner evitando le critiche e i giudizi di un buon feedback si avvantaggia infatti sia chi lo dà che chi lo riceve perché aiuta a creare un clima collaborativo in fondo ne valda il divertimento di entrambi i partner un feedback ha alcune caratteristiche è descrittivo e non giudicante è specifico è affermativo è tempestivo ed è costruttivo in un feedback è importante focalizzarci sul comportamento e non sulla persona e cercare di evitare parole tipo sempre o mai se ci limitiamo a mettere in evidenza solo quello che non va difficilmente l'altro potrà essere stimolato a cambiare e a correggersi i feedback non riguardano solo quello che non è andato bene vediamo alcuni esempi dire sei stato bravissimo a un bottom dopo una pesante sessione di spanking è diverso dallo specificare mi è piaciuto molto come hai saputo comunicarmi la tua eccitazione e come mi hai aiutato a dosare al meglio i colpi la prima frase può fare piacere ma la seconda fa effettivamente capire che cosa ha funzionato altro esempio lato bottom è sicuramente meno utile dire semplicemente stai più attento che mi fai troppo male rispetto a la prossima volta fai attenzione al fatto che a volte mi colpisci troppo in basso e mi dà fastidio col risultato poi che tendo a irrigidirmi e a voler smettere o ancora sei sempre così pesante sin dall'inizio le sessioni durano troppo poco è probabilmente peggio di se la prossima volta inizi più con calma io il tempo di entrare meglio nel giusto mood così la sessione può durare più a lungo e io lo preferisco può sembrare a prima vista un frasario un po' prolisso ma sicuramente è un modo chiaro e non equivoco di esprimersi e che lascia al partner la sensazione di essere tenuto in considerazione e non di essere liquidato con due parole purtroppo però persino il miglior feedback può rimanere inascoltato anche il modo in cui riceviamo un feedback è infatti importante un modo di porci attento e capace di evitare il più possibile fraintendimenti è detto ascolto attivo una buona tecnica può essere quella di ripetere quello che abbiamo capito per consentire all'altro di verificare se è corretto ed eventualmente richiedere dei chiarimenti sulle parti meno chiare una domanda in più non ha mai fatto male a nessuno ma dare qualcosa per scontato sì un feedback infine può essere anche non verbale ma sicuramente con una comunicazione diretta riusciamo a fornire più informazioni tuttavia la comunicazione non verbale può aiutare a chiarire il senso di quello che stiamo dicendo e a comunicare un intento collaborativo e non giudicante l'esperienza conta anche nei feedback col tempo possiamo imparare a essere più precisi più ricettivi e a notare sfumature sempre più sottili nei feedback che ci vengono dati capitolo 17 dopo il gioco una volta finita la sessione compreso l'eventuale aftercare può essere apprezzabile chiedere al partner se è andato tutto bene e come si sente è qualcosa che in genere è meglio fare una volta che le emozioni del gioco sono scemate anche il giorno seguente senza essere pressanti in modo da avere il tempo di tornare alla realtà e di ripensare con calma all'esperienza avuta insieme è un gesto premuroso generalmente apprezzato che fa sentire la nostra vicinanza e il nostro interesse al partner inoltre può essere utile per migliorarci e soprattutto se abbiamo intenzione di giocare nuovamente con quella persona per sapere se c'è qualcosa che è andato bene ma che potrebbe andare meglio o se invece ci si è accorti che qualcos'altro non ha entusiasmato particolarmente capitolo 18 consenso ho iniziato queste linee guida parlando di consenso e ora alla fine dopo aver discusso di come gestirlo attraverso la negoziazione vorrei riprendere e approfondire questo concetto come ho già detto il consenso è un accordo tra due o più persone basato sulla consapevolezza e sul rispetto dei voleri propri e altrui a volte in questo accordo è molto semplice trovare un terreno comune quando i desideri e i limiti sono simili altre volte c'è bisogno di un po' di messa a punto altre volte invece possiamo renderci conto che le aspettative sono incompatibili anche in questo caso ci può essere consenso perché sebbene non sia possibile trovare una soluzione ogni partner può comunque rispettare i voleri dell'altro e questo costituisce un accordo meglio accettare di non poter giocare insieme che forzarci a fare qualcosa che non ci va il consenso deve essere chiaro libero informato specifico e revocabile il consenso deve essere chiaro esplicito espresso senza ambiguità in modo che l'altra persona non possa fraintenderlo non dobbiamo ipotizzare come certo il consenso altrui quando non è stato dichiarato in tal modo può capitare infatti che in assenza di informazioni e risposte chiare possiamo proiettare le nostre aspettative sull'altro fino a pensare che forse vediamo penso di sì o addirittura no possano significare sì il consenso deve essere libero ovvero espresso senza condizionamenti diversi elementi possono influenzare infatti la manifestazione del nostro consenso non dobbiamo innanzitutto essere sotto l'effetto di sostanze che possano compromettere la nostra capacità di ragionamento ci sono inoltre condizionamenti espliciti o inconsci che possano influenzare le nostre scelte dipendenti da noi dal partner dalla relazione o dalle circostanze in primo luogo su di noi influisce il nostro carattere la nostra esperienza la nostra educazione e il nostro vissuto possiamo essere condizionati dalla convinzione di non essere all'altezza da moti d'animo dalla paura di sentirci giudicati in qualche modo da quella di voler scontentare il partner eccetera poi c'è il condizionamento che può arrivare dal partner sia volontariamente che involontariamente possiamo trovarci ad acconsentire a qualcosa perché il partner è eccessivamente insistente o perché ci fa sentire in colpa per un nostro eventuale rifiuto oppure può esserci un condizionamento più nascosto dovuto per esempio al fatto di sentirsi in debito con una persona per qualche motivo perché siamo in una situazione di dipendenza lavorativa o perché influenzati dalla presenza di una relazione di dominazione e sottomissione infine possiamo essere condizionati anche dalla situazione per esempio possiamo sentirci obbligati a fare qualcosa perché siamo stati retribuiti per partecipare a un evento a uno shooting o a una performance il consenso deve essere poi informato ovvero frutto di una riflessione e consapevole di quello che andremo a fare dei rischi e delle caratteristiche di una certa pratica il consenso deve essere specifico ovvero riguardare solo alcuni aspetti e non essere generalizzato per analogia per esempio il consenso dato per fare spanking non autorizza a usare un cane inoltre il consenso deve riguardare solo una sessione e non essere dato per implicito nel caso ci capitasse di giocare di nuovo con la stessa persona il consenso deve essere revocabile in qualsiasi momento senza dover spiegare perché e senza avere paura di rischiare delle conseguenze il consenso infine a meno di accordi specifici non è tramite terze parti c'è per esempio chi ama affidare il partner a un'altra persona ad esempio per realizzare una pratica della quale non si è esperti in questi casi può capitare che uno dei partner della coppia negozi per conto dell'altro specialmente se esiste una relazione di dominazione e sottomissione a mio avviso è sempre meglio rivolgerci direttamente alla persona con cui giocheremo eventualmente confrontandoci anche col suo partner come possiamo vedere il consenso richiede un'estrema consapevolezza spesso per diversi motivi nella vita di tutti i giorni ci esprimiamo senza considerare appieno il valore il significato e il peso delle nostre decisioni e può apparirci strano o eccessivo il farci così tante domande o l'andare così nello specifico relativamente a certe scelte certamente possiamo decidere di non avere regole troppo precise o di giocare nonostante non siamo perfettamente sicuri e preparati ma questo implica che ci dobbiamo assumere la responsabilità del fatto che non tutto potrebbe andare come volevamo capitolo 19 quando il consenso si rompe la gestione di un incidente o di una violazione di consenso è un argomento estremamente complesso e delicato per il quale sarebbe necessario un articolo a parte cercherò quindi di sintetizzare alcuni punti per riflettere su come ci potremmo comportare se ci trovassimo ad essere protagonisti di una situazione di questo tipo innanzitutto vediamo quali siano le differenze tra violazione e incidente di consenso nella violazione di consenso un limite viene superato deliberatamente principalmente con lo scopo di trarre un vantaggio dalla situazione in un incidente di consenso invece un limite viene superato non intenzionalmente e non si ha necessariamente un vantaggio dal fatto che venga superato se nella violazione viene messa in atto una vera e propria violenza da uno dei due partner nell'incidente di consenso la responsabilità può essere condivisa o addirittura essere della persona che ha subito l'incidente in una sessione può avvenire un incidente senza che ci sia una violazione del consenso se per esempio si è fatto qualcosa che l'altro non voleva fare senza che però quello specifico aspetto fosse stato trattato nella negoziazione oppure se nonostante ci si fosse informati un partner si è dimenticato di informare l'altro riguardo ad un certo problema o limite ci può essere invece una violazione senza che questa costituisca un incidente quando per esempio ci viene fatto qualcosa che non volevamo fare ma poi ci accorgiamo che ci è piaciuto farlo le differenze possono essere dunque molto sfumate attenzione che si tratta di una violazione del consenso anche quando il consenso non può essere espresso da uno dei partner per svariati motivi e tuttavia l'altro pur essendo consapevole della situazione realizza quello che voleva fare un esempio può essere quello in cui una persona non è evidentemente nel pieno delle sue capacità perché drogata ubriaca sottomoti dell'animo come depressione paura tristezza o addirittura addormentata o incosciente e dunque non può ragionare con consapevolezza e esprimere pienamente il suo consenso è altresì violenza quando uno dei partner si approfitta di una posizione di superiorità per esempio un rapporto di dominazione e sottomissione una posizione lavorativa una differenza di età oppure di ricatti materiali o psicologici per superare un limite o per ottenere prestazioni non negoziate per quanto l'incidente di consenso non sia basato su un comportamento doloso non è detto però che abbia conseguenze minori su chi l'ha subito quindi riflettiamo ancora una volta sul fatto che più siamo sinceri e precisi nella negoziazione e meno rischi avremo di incorrere in incidenti e che se siamo volutamente poco chiari su aspetti che vogliamo lasciare meno definiti e aperti dobbiamo anche accettarne le conseguenze i consigli sulla negoziazione date all'inizio di queste linee guida sono dei buoni punti di partenza soprattutto quando non ci si conosce bene ne riassumo qui alcuni essere chiari e specifici riguardo ai limiti non negoziare su troppi aspetti decidere ed essere pronti a usare una safe word e nel caso a interrompere il gioco procedere per gradi essere più informati possibile riguardo a quello che si andrà a fare ed essere responsabili riguardo alle decisioni che prendiamo come abbiamo visto la casistica di un incidente di consenso può essere molto varia e a volte può essere difficile capire come sia condivisa la responsabilità a mio avviso è dunque utile fare alcune riflessioni sugli aspetti relativi ai problemi nella gestione del consenso la prima considerazione che mi viene in mente è quella di accettare che tutti possiamo fare errori sia come top che come bottom a meno che non ci si trovi in una evidente violazione del consenso a volte i limiti vengono valicati accidentalmente per questo motivo su certi aspetti possiamo prendere in considerazione il fatto di avere una certa flessibilità che ci permetta di reagire a qualcosa che non sta andando come volevamo senza rimanerne subito scioccati e reagendo con fermezza ma senza aggredire il partner questo discorso non vuole essere una scusa ma una presa di coscienza del fatto di prendersi sempre la responsabilità delle proprie scelte e quella di farle rispettare soprattutto riguardo a eventuali responsabilità condivise l'altra considerazione è che imparare a rispettare i limiti e riuscire a esprimerli efficacemente sono due capacità che dobbiamo allenare di pari passo a volte può capitare un incidente anche perché è stata la persona ad aver subito il danno a non aver chiarito bene in primis i propri desideri e i propri limiti il terzo spunto di riflessione è infine quello di considerare che in un incidente non è sempre semplice capire come sia condivisa la responsabilità il limite tra il fare qualcosa di cui non siamo pienamente consapevoli e l'accorgerci di essere stati spinti a farlo a volte è sottile così come quello tra superare un limite perché non siamo stati attenti e il non essere stati attenti perché un certo aspetto della negoziazione non era chiaro in partenza a meno che non ci sia stata una evidente e volontaria violazione del consenso spesso le responsabilità sono condivise anche se a volte in misura diversa tra i partner piuttosto dunque che voler trovare un colpevole a tutti i costi è più utile prendersi del tempo per riflettere parlare insieme al partner assumersi le proprie responsabilità e cercare di capire come evitare che una certa situazione si presenti nuovamente capitolo 20 conclusioni come abbiamo visto il mondo del consenso e della negoziazione non è sempre così chiaro le nostre scelte il desiderio di sentirci sicuri o di lasciare qualche confine meno netto il decidere di farci guidare dal cervello o dalla pancia possono variare in base a tanti fattori anche il consenso informato difficilmente sarà sempre assolutamente tale se la sessione diventasse un modulo da riempire e da seguire alla lettera il BDSM sarebbe qualcosa di estremamente noioso come dicevo all'inizio se da una parte dobbiamo fare in modo da evitare gli incidenti di consenso dall'altra il mondo del desiderio e del sesso è fatto anche di lati oscuri riguardo ai quali possiamo non sapere bene che cosa vogliamo addirittura ci può eccitare il voler sperimentare qualcosa che non rientra completamente tra le cose che vorremmo fare questo è un ambito attraente ma molto scivoloso in cui i bastoni della preparazione e dell'esperienza ci possono sostenere ma sul quale possiamo comunque facilmente inciampare spero allora che tutti questi discorsi servano anche da allenamento e da spunto di riflessione spero insomma che nessuno abbia la pretesa di diventare il campione mondiale di negoziazione e illudersi di essere al sicuro da errori o fregature ma che invece non venga mai meno la volontà di ragionare su noi stessi e su come ci relazioniamo agli altri in me per primo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.